Ecco fatto. Tutta tua, Capitano. Grazie, Billy. No! No! Darry è diversa dalle altre città in cui sono stato prima d'ora. La gente muore o sparisce sei volte più della media nazionale. E parlo degli adulti. Per i bambini è peggio. Molto, molto peggio. Ci voliamo tutti qua giù. Ho visto qualcosa. C'era un... Clown. L'ho visto anch'io. Allora, le fogne collegano tutto. È lì che vive. Che succede? Che cos'è? Che cos'è? Bill, se verrai con me, galleggerai anche tu. Giorgi. Anche tu? 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 Grazie a tutti